Noi veramente siamo... Ragazzi ci riempite il cuore di Gio... Eccolo qua, ecco, 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 vedi, vedi, vedi un ascoltatore, un ascoltatore Pronto? Pronto? Pronto! Pronto, ciao! Buonasera, buonasera, mi hanno detto che voi siete i migliori della zona, insomma Grazie, grazie, grazie Allora, io vorrei prendere una margherita e poi... Le fate le mozzarella in carrozza? No Ehm... No, no, eh... Allora, solo la margherita, allora solo la margherita va bene Eh, sì, ce la porta lei? Ma non è la pizzeria l'Italia? No, no, questa è l'Italia chiamò, senza pizzeria Un programma radiofonico Oddio, scusate l'imbarazzo, scusate allora Prego, prego Però se ce la porti, se è buona, ce la porti anche a noi No, scusa, ho sbagliato Hai sbagliato? Vabbè, va bene, va bene Grazie, grazie Arrivederci, arrivederci